Siamo rientrati perfettamente in orario. All'ora 11 è prevista la partenza dei 1.500 metri, maschili e femminili, tesserati della Federazione Noto e non tesserati, classifiche separate, maschi e femmine, tesserati e non tesserati. Ricordiamo che poi nel pomeriggio, una volta fin di 3.000, 30 minuti dopo l'arrivo dell'ultimo concorrente, effetteremo le prese. Negli anni 95-98 e sappiamo Monica Corò, Fabrizio Pescatori e Monica Corò che danno lustro a questa manifestazione. La manifestazione, ricordiamo ancora una volta, patrocinata dal Comune di Venezia, assessorato allo sport e dalla Municipalità del Lido dell'Estrina. Stanno accendendo in acqua le cuffie a Roma, la coppa del Nuovo Lido 2010. Stanno accendendo in acqua, la coppa del Nuovo Lido 2010. Abbiamo ricordati a Mattella Etencia, Fordenone, Padua, Este, abbiamo concorrenti da Stresiano, Conegliano, Ron Cade, Moliano, Mirano... ... alla vostra destra, arrivate alla seconda boa gialla dei 750 metri e la girate lasciandola a vestiti concorrenti dei 1500 metri. Ecco lì che si tuffano, sono già arrivati ad Altesa Cazzo, le prime bracciate per raggiungere la prima boa ferrara alla boa sinistra e poi proseguono. Indirittura è posizionata davanti al capirimento Miramara. Tutto, il bisogno a parte dei 3000, l'ultimo ci ha messo ancora. Protezione civile. Ma avete vinto di mezzo? Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Sono... e a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.